E' successo a Los Santos, il ragazzo col nome da medicinale ha fatto l'orbitale a Xavix e Xavix se ne è fottuto altamente le palle, il ragazzo forse per la prima volta si è sentito soddisfatto nella sua vita non contento questo ragazzo è andato a disturbare innocenti che stanno nella crew di Xavix insultando Xavix e non dando rispetto al personaggio addirittura è andato a rompere le palle a un ragazzo e ha pure buscato quindi oltre a rompere i coglioni e buscare e prendere chi dagli altri è capace solo a fare orbitali la cosa più bella che è successa dopo che l'ho preso per il culo perché come tanti purtroppo ha un nome da medicinale si è fatto un altro gamertag ragazzi, il problema è che alla fantasia della madonna si è fatto il barcode e con questa ultima news di GTA V chiudo, bella regà, alla prossima! Grazie a tutti!